buongiorno buongiorno a tutti amici di investire.biz qui a vincenzo penna e vi do il benvenuto nella rubrica caffè e mercati proprio di investire.biz quindi oggi è lunedì 28 agosto siamo all'ultima settimana di agosto a cavallo poi con la prima di settembre e come facciamo sempre lunedì facciamo un piccolo recap di quelle che sono state le posizioni aperte la settimana scorsa anche perché ci sono due in particolare molto molto interessanti. detto questo prima di passare al grafico volevo brevemente ricordarvi che se vi piace la rubrica mettete like condividete e iscrivetevi al canale molto importante ma quando ve lo sto dicendo stanno aumentando le iscrizioni quindi questo mi fa molto piacere quindi vi chiedo semplicemente di essere leggermente poco pigri e di mettere magari un piccolo click al canale. detto questo mi sposto proprio sul sul sito per ricordarvi che oggi visto che comunque è lunedì ritorna il consueto appuntamento del del nostro webinar di punta quindi il webinar del lunedì ritornerà anche riccardo riccardo zago quindi non mancate per per il ritorno perché sicuramente ci saranno delle chicche molto molto interessanti l'evento come sempre è gratuito alle ore 18 come tutti i lunedì andate nel nel sito di investire.biz sotto la sezione a la sezione webinar cliccate iscriviti ovviamente farete tutto in nel giro di due minuti quindi vi riceverete l'email e qualora non riuscisse riusciste a seguirlo in diretto ovviamente vi sarà data la registrazione la registrazione il giorno il giorno dopo al webinar ovviamente come sempre mi scuso leggermente per il piccolo lag che c'è più o meno su questo minutaggio però dovrebbe durare all'incirca 30 secondi un minuto al massimo però l'audio dovrebbe funzionare tutto 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 alla perfezione. detto questo allora io mi sposterei sulla piattaforma di kimura trading come facciamo sempre volevo partire proprio dalle analisi che abbiamo fatto la scorsa settimana soprattutto sul natural gas e sul germany 40 al natural gas c'è ben poco da dire infatti anche con luca durante il webinar dello scorso lunedì abbiamo detto che il gas era nettamente rialzista sia per questioni legate alla stagionalità sia per questioni legate alle scorte infatti vi ho fatto vedere come le scorte stavano leggermente andando ad aumentare quindi ad essere ripinguate che cosa è successo qualche giorno fa mi pare che durante la giornata di giovedì vediamo una sì giovedì sono state rilasciate le nuove scorte e contro ogni aspettativa le scorte non sono aumentate anzi sono diminuite rispetto al previsto che cosa significa che scorte in diminuzione significa che la domanda di gas sta iniziando a riaumentare quindi c'è un attimino una discrepanza tra la domanda e l'offerta quindi che cosa significa che questa discrepanza prima o poi dovrà essere dovrà essere appunto rimpinguata andata a rifocillare le scorte e questo ovviamente riporterà sicuramente a rialzo il il prezzo del natural gas infatti dalla nostra zona di attenzione tra i 2,70 fino all'area dei 2,5 2,55 all'incirca il prezzo appunto fatto questa sorta di v-shape sul giornaliero molto interessante a livello tecnico e dai minimi ha recuperato quasi un 10 anzi oltre un 10 per cento quindi benissimo così per chi è entrato su quest'area tra i 2,7 e i 2,5 ovviamente è già in estremo guadagno quindi magari si può pensare anche di portare qualcosina a casa fino poi l'ultimo target la zona dei 3 dollari per quanto riguarda un'operatività di medio breve termine mentre per quanto riguarda il germany ci eravamo lasciati ovviamente con la nostra mitica entrata la soglia di 15.870 vi avevo detto all'incirca qui era giovedì di portarvi a casa qualcosina visto che comunque il prezzo era rimbalzato con molta forza quindi qui sicuramente vi siete già portati qualcosina a casa avete lo stop in pareggio come noi e quindi la posizione la lasciamo in questo modo quindi stop in pareggio o se volete diciamo per essere leggermente più sicuri lo andate a mettere sopra a questo spike effettuato il 24 di agosto però questo è quanto quindi questa è la posizione con un profitto già portato a casa nella giornata di oggi invece volevo parlarvi di indici americani perché sono molto interessanti soprattutto sotto al profilo di time frame giornaliero infatti ovviamente dopo il netto sell off anzi la piccola vendita perché comunque dopo un rally di questo di questo genere un rally settimanale mensile dobbiamo parlare comunque di leggera vendita quindi dopo la prima vendita di fine luglio quindi parliamo del 31 luglio i prezzi a livello price action hanno creato ben due engulfing ribassiste quindi sia per la giornata 13-14 sia per la giornata 22-23 per tutti gli indici americani quindi parliamo di S&P parliamo di Nasdaq parliamo anche di Dow Jones Dow Jones ovviamente leggermente più forte rispetto ai fratelli minori quindi qualora dovessimo andare a posizionarci short proprio in virtù dell'analisi che vi sto per portare stamattina lo andremo a fare o sul Nasdaq o sull'S&P tra i due sceglierei molto di più diciamo sarei più propenso per scegliere l'S&P anche perché vi faccio vedere come il picco della giornata del 23 agosto si è fermato in maniera molto anticipata sull'S&P a livello grafico rispetto al Nasdaq che è andato leggermente alto infatti è andato quasi a prendere i massimi di tutta questa ultima zona di accumulazione allora come possiamo fare per andare short sugli indici americani sicuramente anche un'entrata al mercato sarebbe molto interessante quindi da effettuare già dai livelli attuali però per chi volesse essere più conservativo consigliamo di attendere almeno un ritorno in area 15.300 per quanto riguarda il Nasdaq e invece per quanto riguarda l'S&P zona di 4.460-4.470 ovviamente essendo un'analisi di lunghissimo periodo perché stiamo facendo comunque un'analisi di time frame giornaliero è possibile che il prezzo vada a ritestare le zone dei 4.540 quindi siate pronti per effettuare una prima entrata e anche una seconda entrata sulla soglia dei 4.550 ovviamente lo stop loss va messo sui massimi annuali quindi sopra i 4.620 per quanto riguarda l'S&P e per quanto riguarda il Nasdaq sopra l'area dei 15.984 punti per avere un rischio rendimento dalla nostra parte ovviamente dobbiamo andarci a prendere delle zone di prezzo molto molto interessanti a livello di esposizione ribassista quindi parliamo di zona di 13.700 all'incirca per quanto riguarda il Nasdaq e invece per quanto riguarda l'S&P la zona da prendere in considerazione è la zona dei 4.228 dollari quindi questa è l'analisi di oggi sia per quanto riguarda l'S&P sia per quanto riguarda il Nasdaq e quindi questo è quanto ragazzi io come sempre vi auguro una buona giornata e vi ricordo del webinar del lunedì vi ricordo di mettere like ovviamente di condividere e di iscrivervi al canale e come sempre faccio vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti ciao